la corsa scudetto chi vede favorita in milan inter napoli ma premezzo che era da forse non so quanti anni che non assistevamo a una corsa a tre non a due di solito era a due quest'anno è a tre diciamo che c'è stato equilibrio anche negli scontri diretti faccio l'esempio equilibrio negli scontri diretti nel senso che milan che perde in casa con il napoli e milan che poi vince il derby inter che i pari giocatori ecco insomma c'è stato un po di un po di equilibrio equilibrio che ci sarà secondo me fino al termine del campionato e secondo me leggermente favorita vedo l'inter per la qualità della rosa per i ricambi che ha e soprattutto è probabile che dopo il risultato dell'andata l'inter esca dalla champions per cui di conseguenza continuerà tutto sul campionato ok e visto che lei lo ha vinto un campionato proprio con il milan nel 78 79 secondo lei erano anni diversi certo assolutamente però quello che volevo chiedere quali che qualità servono all'interno di una squadra per essere competitive e puntare a vincere un campionato di serie di serie a pur premettendo giusto appunto che i tempi sono diversi ma il milan e questo milan aveva quelle qualità che avevamo 40 anni fa più di 40 anni fa cioè un milan solitare un milan omogeneo un milan quello era un milan che non aveva grandi quali classi andiamo a cicchiare l'unico era gianni rivera che era gianni rivera poi gianni rivera è gianni rivera è tu fulvio no beh c'era franco baresi però era un milan che giocava un calcio totale 9-10 gol di 10 gol di faceva albera persino sinistro cose da altri tempi cioè il capocannoniere fu chiodi il nostro attaccante fu chiodi con 9 gol cioè questo è un milan che per certi versi si rivede in quello cioè un milan che si gioca con con tutta la squadra con la perché c'è un solo giocatore anzi forse ce ne sono due uno che purtroppo l'età per limite di età può giocare fino a un certo punto che e l'altro è leao ci sono i due giocatori che hanno il cambio di passo il cambio di marcia che hanno i colpi da fuori classe capito per cui di conseguenza io mi vedo molto in quel milan che era un milan che giocava compatto con tutti ecco se questo milan di adesso non gioca intenso non è un caso che contro sternitana non è che sia mancato un giocatore è mancato tutta la squadra proprio perché proprio per quello che dico io cioè il milan è una squadra che deve giocare bene con tutti poi il colpo il pezzo di bravura te lo fa magari il dry voice, te lo fa Rebic o te lo fa leao ma però deve giocare con intensità con cattività in Italia tutta la squadra non singolarmente possiamo dire che è una squadra che quando vince vince di gruppo non si affida vince di gruppo bravo, è perfetto visto che ha fatto qualche nome di giocatori singoli quale giocatore l'ha colpita di più quest'anno? il milan? sì certo sì un giocatore che per colpi tecnici beh innanzitutto tonali che facciamoci chiaro cioè se pensiamo ad un 2000 la personalità la padronanza nel gestire la palla insomma tonali penso che si possa essere il giocatore il giocatore che per dieci anni può essere il perno del centrocampo il perno del centrocampo poi i corpi di leao però deve trovare continuità a volte dall'idea di essere troppo discontinuo e poi in difesa mi piace molto Tomori però ha avuto l'infortunio insomma deve riprendere riprendersi perché dopo quando hai degli infortuni è sempre un po' difficile riprendersi ecco per cui sono questi i giocatori un altro buon acquisto è stato Magnani al di là del capitale di contro la salività però tanti avevano dei dubbi dopo l'addio di Donnarumma invece lui ha dimostrato di essere non solo Valterre ma anche di essere un proprio giunto quindi se abbinando a questa domanda invece in quale giovane vede più margini di miglioramento o comunque sia una parvenza di fuoriclasse detto che comunque sia Tonali già un po' risponde a questa domanda magari a parte Sandro ma io se dovesse fare un nome su chi punterebbe su chi punterebbe si come potenziale fuoriclasse secondo me questo ragazzo qua tra 3-4 anni può diventare veramente un fuoriclasse magari Leao collegandoci al discorso di prima secondo me dobbiamo fare attenzione anche in chiave nazionale a Leao noi è probabile che gli incontriamo a Portogallo e Portogallo ci trovi con Cristiano Ronaldo con Leao con Silva i colpi se riesce con la maturità i colpi ce li ha Leao passando invece a Mister Piuli che insomma ha dimostrato tanto ma forse poco in ottica di titoli vinti chiaramente cosa ne pensa della crescita del Mister dagli anni di Firenze dagli anni di Roma con la Lazio a quest'ultimo diciamo al biegno Milan partendo poi da quel novembre 2019 ma parlando di chi scusino di Mister Piuli Mister Piuli ma Piuli è un allenatore che che secondo me è maturato molto nella gestione della gara e nel gestire gruppo ha avuto delle esperienze cioè parliamoci chiaro se tu parli dell'esperienza che ha avuto alla Fiorentina l'esperienza che ha avuto alla Lazio non ha mai avuto esperienze negative mai in effetti però gli mancava il salto di qualità e penso che questo salto di qualità lo ha fatto così cioè non è un allenatore che dici cioè non ha mai fatto brutti campionati ha sempre fatto campionati dignitosi campionati anche da prime posizioni dal Zona C'è dal Zona Europa D però gli mancava questo salto di qualità che ha fatto adesso con me perché evidentemente con l'esperienza è maturato sa leggere la gara ma poi parliamoci chiaro gli allenatori ormai devono gestire 25 giocatori la gestione dei 25 giocatori non è facile per cui può anche essere che qualche volta qualche sbaglio noi io stesso a volte qualche critica la faccio però gestire 25 giocatori devi accontentare tutti e non è facile certo non è facile credo che la gestione del gruppo ecco prima ancora perché per la tecnica insomma sia per le indicazioni tattiche che chiaramente hanno la loro importanza però saper tenere tutti sulla corda far sentire tutti importanti no ma ai miei tempi eravamo in 15 certo sono 10 di più è vero che ci sono più personaggi ci sono più collaboratori così però anche più partite da giocare magari anche più partite da giocare io se avessi fatto allenatore ti voglio tenere sott'occhio io e 25 persone tenerle sott'occhio è difficile ti devi fare aiutare dai tuoi collaboratori per cui non è semplice devo dire la verità devo dire che però lui la cosa più importante è che è riuscito ad ottenere la la stima dei suoi giocatori per un allenatore è la cosa più importante che è passando invece a Frank che si e tutta la situazione che purtroppo ai Milan ai tifosi rossoneri lo circonda cosa ne pensa? molto semplicemente partendo dalle dichiarazioni che aveva fatto una cosa voglio dire prego se il Milan siccome fa parte fa parte della squadra che deve vincere lo scudetto il tifoso non deve fischiarlo a giugno faccia quello che vuole fischi però fino adesso fa parte del gruppo e va sostenuto perché il tifoso deve pensare alla squadra non è possibile certo in effetti spesso quando ci troviamo a parlare anche magari in qualche live Instagram io c'è magari chi opta per il metterlo in tribuna ma no il tifoso ragiona con la passione certo certo io invece ho una visione ingrazionale per cui la prima cosa è fischiare ma non aiuti non aiuti il giocatore personalmente io invece in quel momento devi pensare all'obiettivo ma l'obiettivo che è questo certo io invece ho una visione forse un po' più manageriale un po' più dirigenziale nel senso che penso che allora è innegabile che si sia uno dei primi tre nelle migliori delle condizioni per carità sia uno dei migliori tre quattro centrocampisti del campionato italiano quindi quindi lo devi sfruttare poi è chiaro che se il mister durante la settimana non lo vede pronto non lo vede sul pezzo è chiaro che lo mette in panchina però quando è in campo va sostenuto anche perché va sostenuto ma non cioè è un è un chiaro non c'è un assenza ringrazio a nome mio e di tutta la redazione veramente disponibilissimo e gentilissimo va bene